Sebbene la turbolenta relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sia ormai andata in archivio da diversi mesi, ogni singola mossa dei due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello VIP viene costantemente monitorata dai rispettivi fandom. Nelle ultime ore, un liché piazzato dal volto di Forum ad un post di Mikolin Corvaia, con la quale ha riallacciato i rapporti, ha scatenato l'ira delle fan dell'influencer campana. Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso settembre, Antonella Fiordelisi lanciò una capsule di abbigliamento in collaborazione con un noto brand di moda. Lo speaker radiofonico, all'epoca dei fatti, mise un liché ad un articolo del Corriere della Sera che in sostanza screditava il brand in questione. Lavoratori schiavi, tessuti tossici e inquinamento, si leggeva nel titolo del noto quotidiano, e secondo gli utenti la mossa di Edoardo fu tutt'altro che casuale perché aveva l'obiettivo di screditare in qualche modo la sua ex fidanzata. Forse l'ho messo perché qualcuno ne venga a conoscenza e si informi ed eviti figuracce perché ci tengo? Ma no, guardate sempre il marcio, era stata la giustificazione di Donna Maria. E adesso torniamo alla stretta attualità. Nelle ultime ore, Mikolin Corvaia ha pubblicato su Instagram un post che sponsorizza proprio lo stesso brand con cui collabora Antonella Fiordelisi. La mossa social di Edoardo, ovviamente, non è passata inosservata, con i fan dell'ex Vippona, attualmente impegnata a Pechino Express, che si sono scagliati contro il volto di Forum, il problema non è il liché messo a Mikol, ma quello messo contro Sheen in un momento lavorativo importantissimo per la sua ex di una cattiveria inaudita, ha commentato un utente. Il liché di donna Maria a Mikol, secondo i fan dell'influencer Campana, rafforzerebbe la tesi che Edoardo aveva come obiettivo proprio quello di screditare il lavoro di Antonella. Voi da che parte state?